Noi salutiamo con soddisfazione l'avvio dei lavori in quest'area che abbiamo messo a disposizione il Golf Club Le Miniere perché possa realizzare questo primo embrione di campo dal golf. Naturalmente noi abbiamo solo messo a disposizione le aree e gli investimenti li faranno loro, ma questo primo investimento è fondamentale per dimostrare intanto che questa società, questa associazione ha grandi possibilità di sviluppo e soprattutto che quest'area è vocata a questo tipo di attività. Oltretutto il nostro obiettivo è far crescere il lavoro e l'occupazione dei fini turisti recettivi perché il campo dal golf aumenta sicuramente la stagione dei nostri agiturismi ed abbiamo scelto d'altra parte di non realizzare in area mineraria il nuovo cemento, ma di valorizzare le attività che vi sono intorno, non per ultime, se qualcuno volesse, recuperare il volgo di Castelnuovo dei Sambioni. Quindi un'attività sportiva che deve essere realizzata in quest'area che sarà realizzata, ma tenendo conto anche del legame col territorio, quindi uno sport di elite che qui diventa uno sport alla portata dei tutti, facendo in modo che i costi anche per chi decide di giocare siano alla portata dei cittadini del Val d'Arna. Questa grande scommessa, sviluppo, sviluppo turistico, sviluppo sportivo, è uno sport di elite che a Capriglia diventa uno sport al massimo. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione e credo anche in sintonia con gli obiettivi del Golf Club del MNF.